VOLANO GLI STRACCI NEL PIDL A TARANTO L'ex sindaco di La Terza ha accusato il coordinamento provinciale di mancato coinvolgimento e discussione interna al partito. Ma non solo. Nella dura replica, Cristella Montanaro risponde alle accuse mosse dal consigliere di odore di conservatorismo con accuse di carrierismo, opportunismo e trasformismo. Insomma, nel PDL sono i piatti in faccia, uno scontro che sa di resa dei conti nel partito, di una battaglia in corso tra il coordinamento cittadino e quello provinciale tra l'asse sala, che in una nota ha chiesto anche il rinnovamento dei vertici nel passaggio a Forza Italia, e quello Montanaro. In tutto questo il deputato Gianfranco Chiarelli ci prova a fare da pacere, ma lo scontro ormai è aperto.